Ci vediamo domani sera, mi raccomando, portate i genitori. È un metodo per selezionare le informazioni. Ma al di là di questo, come riprendendo la vecchia e secondo me sempre attuale e mai superata teoria di McLuhan, quanto più tu ti impossessi del mezzo, più lo controlli, quanto più lo conosci. Noi diciamo che non date addosso alla tv, per esempio, è soltanto uno strato che bisogna conoscere. La tv è piena di robaccia, adesso poi abbiamo un città terrestre, io con i rifiuti sono veramente preoccupato, perché dal 40 al 49 c'è una serie di roba veramente che io eliminerei per quei canali. certamente, allora che si fa? Si spara, c'è una canzone di Springsteen, ho preso il fucile e l'ho sparato contro la tv. No, si impara a conoscerla. Quando la scuola fa, per esempio, un laboratorio di cinema, un laboratorio di tv, facendo, insegnando ai ragazzi a conoscere il mezzo, ad entrare nel mezzo, a capire le mistificazioni che ci sono dietro, a capire che certe volte una cosa ce la passano per vera, ma invece è appena appena verosimile, se non proprio fiction, pura e semplice. Lo stesso vale per il giornalismo, i giornalini fatti a scuola, no? A cosa servono poi in realtà dal punto di vista educativo? Servono a dire, attenzione, che la notizia si può manipolare e guardate come la potete manipolare voi stessi. La stessa cosa vale per la scrittura. Il fatto di cimentarsi con delle storie, loro hanno usato dei trucchetti da laboratorio di scrittura molto, molto efficaci, molto carini, sono venuti fuori dei racconti davvero credibili che vi consiglio di leggere. Anche la grafica è molto bella, è un lavoro veramente fatto bene. Ecco, per chi come me crede che la crescita di una persona non possa non passare attraverso una stagione di letture intensa, come minima, che parte dalle scuole elementari e arriva come minima alla fine della scuola superiore, allora, insomma, dare ai ragazzi la possibilità di scrivere le storie, intanto per cominciare a cimentarsi loro stessi, può essere che sia un passo in avanti anche nel leggere le storie che hanno scritto bene, nell'appezzare i libri, i romanzi, la narrativa, di qualsiasi tipo, dico sempre ragazzi, di qualsiasi tipo, dalla serie C, dai piccoli brividi a qualsiasi cosa, perché per me anche i libri così, i cosiddetti commerciali, anche quelli sono un trampolino verso le vette più alte. non so, se uno si vuole avvicinare al jazz, io penso che sarebbe il caso di con un jazz di un Kellington, per dire, no? Cioè non da Charlie Parker, per dire questo, è un po' più difficile. E lo stesso vale anche per la scrittura. E quindi tutte queste iniziative che da qualche anno, da un po' di anni in questa parte, brulicano nelle scuole italiane, sia addirittura delle materne nel capitato di fare degli incontri. Dalle materne ai licei non possono che essere lodate e incrementate soprattutto, tenendo soprattutto presente un dato, che gli italiani sono il popolo che leggono di meno al mondo. Dico sempre, insomma, che chi è abituato, insomma, chi ha fatto anche un solo viaggio nel nord Europa, o anche abbia incontrato dei ragazzi del nord Europa in treno per caso, vede bene che la differenza tra un italiano e un ragazzo anche di 16 anni, diciamo, dalla dalla Svizzera in su, è questa. Che l'italiano sta col telefonino in mano e i ragazzi del nord Europa stanno con i libri. Ma molti libri, cioè se vedete i loro zaini sono pieni soprattutto di libri. E quindi, iniziare da, 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 fin da piccoli a ravventurarsi, anche grazie proprio a questo, a questo genere di approccio, a provare a scrivere, a far scrivere loro stessi delle storie. Trovo che sia fare scuola in maniera diversa e farla molto bene. Grazie. Allora, io ringrazio molto di dire volando delle parole per leggere una storia a uno dei nostri, a un paio dei nostri ragazzi, perché penso che sia più di questo, non possa parlare nient'altro dell'attività che loro hanno fatto. Devo dire che in questo percorso è stato molto entusiasmante sia per i ragazzi che per noi, perché comunque, stando a contatto con loro, e poi soprattutto per me, che di mestiere non faccio questo, non faccio un insegnante. Quindi è stato veramente bello vedere come siano riuscite da aprire la loro fantasia per tirare fuori queste storie, che poi potrete leggere nel libro, ma adesso ne leggeremo un paio. Storie veramente nate da nulla, possiamo dire. Per esempio, quella che adesso ci leggerà Pietro, si chiama Costate per sempre. Per scrivere questa storia abbiamo aperto il dizionario, abbiamo pescato due parole a caso, una era costate e l'altra era poltrona. Poi abbiamo riunito i ragazzi in gruppo, abbiamo detto adesso scrivete, fatevi venire in mente qualcosa che abbia a che fare con queste due parole. Adesso scontriamo cosa è venuto fuori. Costate per sempre. Paola Genoveffa, detta anche Luigi perché il suo nome era troppo lungo, era una bambina di sette anni che viveva in una famiglia benestata. Era magra, tanto magra, troppo magra e ci teneva al sospetto fisico. Non mangiava niente e, soprattutto, non le piacevano le costate. Nonostante la sua magia per inculaggiarla le diceva, una costata al giorno leva al medico di Torno, modificando il famoso detto della vera. Riesceva alta e magra e fino ad allora non aveva mai assaggiato una costata. All'età di 23 anni incontriò Pasquale e subito i due si innamorarono perdutamente. C'era però un problema. A Pasquale piacevano da morire le costate di maiale. Era sempre seduto su una poltrona e mangiava una costata dopo l'altra con incredibile velocità, tanto che, alla fine, fece venire voglia di mangiare la carne anche a picchi, che lo osservava in credula tutto il giorno. Inizialmente lo guardava con molto disgusto, ma man mano che passavano i giorni, lo svegno si trasformò in invidia. Così Piggi iniziò per curiosità ad assaggiare le costate che Pasquale lasciava in giro per la sua casa e quelle rare volte che si usava della poltrona. Pian piano cominciò a rubare da qualche succulenta bistecca al suo grasso di anzale. Passò un giorno, ne passano due, il rapidamento di bistecchi e finì inevitabilmente per vedere Piggi sprofondata in una poltrona accanto a Pasquale, entrambi immersi in una montagna di bistecchi. Il rumore provocato dalle loro mandibole era risordante. Il cumulo di ossa spolpate cresceva sempre più alto, seguendo l'augmentare delle loro facce e del loro piccolino. E a noi così piace immaginarli, nell'aldilanco, insieme a mangiare costate nel mio figlio. Io raccolse colpidante e, dopo una gustosa relazione con te, inizio a raccontare. Io possiedo un campo di melanzane e da un po' di tempo mi sono accorta che ne mancano alcune. L'avvocato ascoltava, ad occhi chiusi, un misterioso racconto. Era un tipo un po' strano, veniva da una famiglia molto ricca. Indossava stivani marroni, tipo western, sintetici e scomidi. Un cappotto violmato, pinguino, tutto nero, con il colletto rosa. Per essere un pinguino era un po' freddoloso. Ad un certo punto, apri gli occhi e disse, meglio mettere una scatola nera per risolvere il caso al più presto. Dopo un po' di giorni, le melanzane continuavano a stagliare, ma il lato non sapeva di essere registrata. Miriana e l'avvocato Milo andarono a prendere la scatola nera per scoprire il colpevole. Appena videro il video, la signora Miriana è rimasta meravigliata, dalle immagini non si aspettava che il colpevole fosse il suo figlio, Alessandro Bassi. Miriana ricordò un episodio. Un giorno chiesi al mio figlio di andare nell'orto a raccogliere le melanzane, perché invece lo aveva detto che ci sarebbe stata una forte nevicata. Uscì di casa e andai a comprare l'olio per la ricchiera. Le melanzane tornai dopo due ore. Entrato in casa, vedi Alessandro a giocare ancora con la Playstation, e gli chiesi se fosse andato nell'orto. Lui rispose che sarebbe andato appena avrebbe finito quel livello di gioco. Io fiduciosa andai all'esternista, in quanto mi ero rotto con unghia, mentre compravo la bottiglia d'olio. Al ritorno vedi ancora Alessandro giocare. Perci le staffe e gridai. Per tutti i pinguini del Duolo Sud, perché non sei andato a raccogliere le melanzane come te avevo chiesto? A questo punto ci vado da te. A te non si può chiedere nessun favore. Uscì di casa, sbattendo la volta. E mi camminai verso l'orto. E qui torna la sorpresa. La signora Miriana era su tutte le fule. Non riusciva a pensare ad altro che a quello che era accaduto. Nella fine decisi di andare in tribunale, e rivolgersi al giudice per fare contornare i suoi figli. Nella grande sala delle giudizie c'era seduto il giudice al cento e al centro, e subito una inizia si rivolgono alcuni vocali di fortale. Il processo condizionò, e Bassi negava sempre tutti i conti, riferiti da Miriana e al giudice. L'ascoltava assoluta. All'improvviso, però, il corpo di scena, la porta della sala si aprì, e da essa entrano i due pescinezzi, che raccinavano una grande scala maniera. Quella che l'avvocato aveva fatto non c'era più. Il giudice ottimo. Vediamo l'immagine registrale. A quel punto Alessandro non sapeva più cosa dire. Non poteva negare l'intenzione di costare la sala maniera, che quegli stupiti pesci avevano rinverato. Così il giudice condannò Alessandro, che scoppiò in un pianto di rotto. Miriana, vedendo suo figlio molto triste, decide comunque di perdonarlo, perché aveva imparato la ragione. Così Alessandro si sveglia e si sposte. Gli sono fatti, tutto sui dati. Era solo un sogno. È l'onore e il piacere è mio di stare con voi, e quindi ringrazio la dirigente, il professore Arturo Gioni, per avermi invitato, perché proprio ieri mi ha chiamato, e ci vedevo ad essere presente. E alle belle parole dello scrittore Livio Romano e del vostro tutor, mi associo anch'io perché è vero, quello che ha detto prima Arturo lo pensavo, nel senso che la validità di questo percorso, di questo progetto, sta soprattutto nell'originalità che i ragazzi, che gli alunni ci hanno messo, anche perché credo che abbia poi un importante valore pedagogico, perché io credo che attraverso questi progetti, e soprattutto con le favole, credo ognuno di noi anche da piccolo, nelle favole poi in un certo senso, con la sua originalità, con la sua fantasia, porta quei pensieri, quei sogni, che molto spesso non si ha il coraggio di dire, o di vedere realizzati, però forse nella favola abbiamo tutti il coraggio di scrivere e di dire, quindi io credo che l'originalità e l'estruosità dei ragazzi ha dato modo di far questo libro così bello, è anche accattivante dal punto di vista delle stelle, dei disegni, ed è molto bello. E devo fare veramente i complimenti, non per le donne, perché ho avuto un modo anche in altre occasioni di dirlo alla dirigente, ma anche a tutto il corpo docente, perché in questi lavori ci mettono veramente l'anima e questo è determinante per il coinvolgimento degli alunni, perché mi porta poi come si può vedere da questo lavoro, veramente a dei risultati entusiasmanti e molto importanti. Lo stesso apprezzamento lo faccio al professore Tempesta, che ha accompagnato il progetto e a cui auguro di avere anche altri successi. Quindi complimenti, auguri per questo fine anno scolastico, è meritata il riposo estivo, però prepariamoci sempre a sfide più importanti, che ci aspettano, che voi sicuramente siete in grado di affrontare. Le cose che i genitori vogliono sentirsi unire, che noi vogliamo sentirsi unire, perché il lavoro, almeno quando è riconosciuto, siamo tutti contenti, felici e entusiasti di quello che abbiamo realizzato. Ora io, il professore Tempesta, chiamerà i bambini e consegneremo il libro che voi l'avete anche scritto. Chiameremo ogni bambino e io consegnerò il libro. Io intanto, prima di consegnare il libro, se voi è la parte finale di tutto questo pomeriggio, vorrei ringraziare i genitori. Grazie della pazienza perché accompagnare i bambini per tutto l'anno e i pomeriggio e riunire e partecipare che il pomeriggio è una delle attività, perché poi l'attività, tutti i pomeriggi la scuola è aperta per tutte le attività e fare tutto questo sacrificio, ecco, io vedo che poi a fine anno si raccolgono i fuggi, siete contenti di quello che i vostri figli hanno imparato. Ecco, grazie ai genitori e vorrei ricordare che noi, il 7, noi saremo in Piazza Salandra. L'ho già ricordato tutte queste giornate, eccetera. Domani, ecco, domani alle 20.30 e naturalmente ora l'assessore qui lo ringrazierò poi in Piazza Salandra, l'assessore Farangone, il sindaco Marcello Risi perché quest'anno proprio il Comune di Rado ha voluto fortemente questa manifestazione finale di tutte le scuole proprio per, non lo so, ma per far uscire, aprire la scuola, ecco, aprirla al territorio. Lo ringrazierò poi in Piazza Salandra domani sera. Quindi domani sera, mi raccomando a tutti, partecipiamo numerosi. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.